non è l'esercito ma ci siamo usciti eh però con quel cosa si taglia come ci stai in mezzo a piccolino non ve la tirate che vi tagliate la mano i grandi lo fanno e i piccoli no Giorgia è stato in mezzo al salone di macchina e i maschietti no poi ti prenderò anche anche l'adattacchino se il primo elemento dovrebbe essere un po' costato no? no 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 No